Buongiorno e grazie della linea da studio. Quella che vedete è una cabina secondaria di trasformazione nella quale è possibile vedere alcune delle principali tecnologie del progetto di implementazione destinato alla rete di Genova. La componentistica tecnologicamente avanzata consente l'implementazione di un sistema chiamato Smart Fold Selection cioè tale da consentire la selezione intelligente del guasto. Questo sistema, basato su protocolli di comunicazione evoluti, riesce a isolare un eventuale guasto in un solo secondo minimizzando non solo il numero di clienti disalimentati ma anche il tempo di ripristino di una grossa parte della clientela coinvolta. Questa rappresenta la prima applicazione della Smart Fold Selection su un'intera porzione di rete MT a larga scala e non sperimentale ma in reale esercizio. Riteniamo che questi benefici siano particolarmente tangibili sulla città di Genova che in relazione alla morfologia del territorio e all'eseguità degli spazi disponibili ha accusato una storica difficoltà a realizzare nuove cabine in risposta anche alla crescente potenza richiesta dalla clientela civile ed industriale. Questa che vedete è l'attività di 3D modeling della rete elettrica ottenuta con l'utilizzo del laser scanner che viene avviato tramite lo smartphone. Questo strumento consente di effettuare la scansione in 3D di tutta la cabina quindi sia di tutte le apparecchiature retromeccaniche in essa contenuta sia di tutti i suoi spazi. L'acquisizione di questi dati raccolti in un unico repository. Come questa venga lo mostra il mio collega di sede per cui passo la parola a lui. A te Roberto. Quello che vedete è la fedele ricostruzione virtuale tridimensionale della cabina in cui si trovava il collega. Con questo tipo di attività riusciamo a creare un'immagine virtuale ad altissima definizione di tutti i nostri impianti. Vedete immagini molto precise e dettagliate in quanto sono basate dall'acquisizione di una nuvola composta da milioni di punti. L'acquisizione consente l'introduzione di nuove modalità di lavoro come sopralluoghi da remoto, sviluppo di modelli di manutenzione predittiva attraverso l'intelligenza artificiale e nuovi modi di interazione con il personale operativo. Benissimo, quanto i colleghi ci hanno finora mostrato rappresenta quanto oggi implementato sulla rete. Guardiamo avanti, cosa ci sarà? Ci saranno delle possibilità di innovazione tecnologica, ci saranno le cassette di sezionamento telecomandate che consentiranno una rapida realimentazione della clientela interessata al guasto. Ci sarà la sensoristica di cabina che sarà una sensoristica di natura elettrica che quindi supporterà la smartphone selection, il monitoraggio dei carichi, la hosting capacity. Ci sarà una sensoristica di tipo ambientale che supporterà il mondo di Internet of Things fornendo una serie di parametri e dati che saranno disponibili a tutti. A coronamento di tutto avremo le potenzialità del canale trasmissivo rappresentato dalla fibra ottica per il quale su area di Genova, sull'impiantistica di Genova, abbiamo una storia particolarmente felice e a fine anno riusciremo a connettere più di 700 cabine.